Gentili telespettatori, buona giornata. Ci sono indiscrezioni che parlano di passaggi da Fratelli d'Italia alla Lega di Matteo Salvini alla Camera. Sarà vero? Intanto dalla Lega sono passati a Fratelli d'Italia qualche giorno fa un eurodeputato e un deputato. Adesso ci potrebbe essere una sorta di vasi comunicanti. C'è chi ha condiviso la linea di Salvini e chi ha condiviso la linea di Giorgia Miloni, chi non ha condiviso le due linee. Quindi ci sono dei passaggi incrociati, diciamo così, di scontenti. E così continua il via vai tra le forze politiche alleate. Era proprio Sofo, l'europarlamentare che vi dicevo prima, che passa a Fratelli d'Italia, nell'Eurogruppo in Europa. Ma adesso ci potrebbe essere il turno di Ilenia Lucaselli. Il Corriere della Sera parla di un imminente addio della deputata che passerebbe a Fratelli d'Italia, questa volta a favore del partito. A sua volta però Giorgia Miloni si prende la sua vendetta. Il leghista Gianluca Vinci prima non ha votato la fiducia a Mario Draghi, poi ha annunciato di passare in Fratelli d'Italia. Quindi c'è un tam-tam di spostamenti dopo la nascita del governo Draghi. Pochi giorni fa il capogruppo dalla Lega in Basilicata, Tommaso Coviello, ha lasciato la Lega per andare anche lui in Fratelli d'Italia. Stessa cosa per Nicola Mattoni, ex segretario della Lega a Raitina. Non va meglio a Forza Italia, sempre in Toscana, il capogruppo a Palazzo Vecchio e coordinatore cittadino Jacopo Celai, Riccardo Pretolani e Sabrina Orlandi e l'ex sindaco di Rio nell'Elba Claudio Lesantis hanno salutato Berlusconi per andare appunto nell'altro partito del centrodestra. Salvini esulta per l'arrivo di Roberta Nesto, sindaco di Cavallino Treporti. Entrata nella Lega che cresce da nord a sud, dice buon lavoro. Ma sono tante a dire del suo leader le new entry e non solo appartenenti al Movimento 5 Stelle che sarebbero in procinto di arrivare. La Lucaselli per ora preferisce il massimo riservo, ma chi le ha parlato racconta di un certo travaglio. Ho enorme rispetto per Giorgia e la sua coerenza, ma credo che in una fase come questa sia necessario sporcarsi le mani e ancora, quanto avrebbe riferito agli amici, il recovery plan è uno solo. Se si vuole incidere non ci saranno altre occasioni. La Lega non ha fatto alleanze con P10 e 5 Stelle. Andare al governo richiede altrettanto coraggio che rimanera all'opposizione. Gli elettori, una volta chiarito che le elezioni non erano in discussione, capiranno. Qui è un po' il travaglio, che non è quello del fatto, ma il travaglio di politici e votanti proprio per il fatto che, diciamo, molti pensano che è giusto e sia stato giusto entrare nel governo per combattere la sinistra che comunque loro vuole governare per andare comunque a far valere le proprie opinioni e chi dice comunque no, non si può governare con la sinistra, bisogna stare fuori. Io credo che dire io non gioco perché loro stanno giocando, tirarsi fuori mentre gli altri giocano, lasciarli giocare e lasciarli fare danni al paese. Insomma, io non la penso propriamente così. Come diceva quel politico che prima vi ho menzionato, dopo che hai capito che al voto non si può andare e che c'è un governo aperto a tutti, dire io sto fuori, non gioco, insomma vuol dire far giocare gli altri e gli altri sono PD, 5 Stelle con i loro danni che hanno già fatto al paese. Quindi io personalmente, poi voi pensatela come volete, io se avessi avuto un partito sarei entrato nel governo non per governare con PD e 5 Stelle e l'EU, ma per andare a far valere le mie opinioni, quello che voglio realizzare per non stare fuori a criticare quello che fa la sinistra. Meglio andare dentro e cercare di combinare qualcosa, contrastando la sinistra dall'interno, perché da fuori non puoi fare assolutamente nulla. Puoi fare dei post e dei video su Facebook dicendo guardate cosa stanno facendo, ma intanto quegli altri stanno facendo quello che gli pare piace. Quindi questa è la mia posizione che vi ho raccontato parecchie volte. Intanto ci sono anche la battaglia dei sottosegretari, ecco, il riservo rimane ancora massimo ma non mancano i primi malumori. Il Corriere della Sera svela che dalle defezioni in Casa 5 Stelle in pochi giorni sono infatti stati 15 deputati e 21 senatori messi alla porta dopo il voto contrario al nuovo governo. La scissione ridimensiona così la quota riservata ai grillini che scenderebbe da 13 a 10 sottosegretari. Al Viminale tutto farebbe pensare al 5 Stelle Carlo Sibiglia, mentre all'economia c'è il nome di Luca Castelli, Francesca Businarolo ha ottime chance per la giustizia, Luca carabetta la transizione digitale, Stefano Buffagni dovrebbe invece restare al Mise e Manlio di Stefano agli esteri. Al posto di Vincenzo Spadafora potrebbe esserci Simone Valente, Giancarlo invece Cancellere dovrebbe lasciare il MIT, infrastrutture e trasporti, per approdare al sud, mentre Pierpaolo Sileri potrebbe rimanere alla salute. E poi notizie quelle relative alla crisi grillina che fanno comunque ricevere una certa soddisfazione da Matteo Salvini, perché la Lega ha due obiettivi, quello di controllare il Viminale e quello di verificare l'operato della sanità. Di Casteri è ancora occupati da Roberto Speranza di Leo e Luciana Lamorgese, un tecnico. Quindi al Viminale potrebbe arrivare Stefano Candiani e alla salute Gianmarco Centinaio o Luca Coletto, questi per andare a mettere dei propri uomini proprio nei ministeri chiave, quei ministeri che vorrebbe la Lega controllare. Ma vorrebbe controllare anche altri di Casteri come l'ambiente, le infrastrutture, l'agricoltura e la scuola. Qui i nomi ci sono già di Massimo Bitonci all'economia, Lucia Borgonzoni alla cultura, Pasquale Pepe all'agricoltura, Vanna Gavia alla transizione ecologica, Edoardo Rixi alle infrastrutture e trasporti, Mario Pittoni all'istruzione, Claudio Durigon o Andrea Giaccone al lavoro. Insomma, per Salvini è un vero e proprio colpo gobbo perché realmente tra i ministri e i sottosegretari c'è una buona entrata nel governo, come vi dicevo prima. A questo punto, visto che non si può votare, meglio andare nel governo e cercare di fare il possibile per portare avanti le proprie idee, almeno io la penso così, ognuno poi la può pensare come vuole. Ovviamente è ovvio che prima c'è il voto, ma se il voto non ci può essere è meglio andare dentro a combattere per le proprie idee che rimanere fuori, almeno. Questa è la mia idea. Grazie a tutti quanti e buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.